Frame dopo frame, automobilista dopo automobilista, i carabinieri stanno circoscrivendo, non solo temporalmente, la concatenazione di eventi che ha portato alla morte di Ceicti, Dianne Bance, il diciottenne ritrovato senza vita domenica all'alba sulla Pontebana in territorio di Nervesa della battaglia. Dopo aver acquisito le immagini di tante telecamere pubbliche e private, l'attenzione degli inquirenti si è concentrata su alcune decine di mezzi. In tanti casi sono scattate vere e proprie ispezioni nei domicili e nei luoghi di lavoro dei rispettivi proprietari e conducenti, tra questi anche alcuni camionisti. Una nota è stata diramata dalla procura anche alle carrozzerie della marca, così da segnalare urti e danneggiamenti sospetti. Accanto alle ispezioni si stanno raccogliendo anche preziose testimonianze, secondo cui il ragazzo era a piedi e solo dopo aver trascorso parte della serata e nottata all'odissea come da lui stesso documentato su alcune storie di Instagram, ora al vaglio della procura. Al momento l'unica auto a risultare lesionata con la gomma anteriore destra a terra è questa Clio Scura, appartenente alla donna, un'infermiera che domenica mattina di rientro dall'aeroporto Canova ha lanciato l'allarme accanto a un altro automobilista. Il mezzo è ancora sotto sequestro e anche questo non è affatto un dettaglio. Probabile che il ragazzo sia stato urtato mentre era già riverso a terra. Chiaro che la fase è delicatissima con la procura che attende l'esito dell'autopsia che si terrà nelle prossime ore e che dovrà soprattutto escludere un'eventuale aggressione precedente di investimento, ipotesi non prevalente ma che resta sul tavolo degli inquirenti. Cosa ci facesse un 18enne in questo angolo oscuro di Pontebana è ancora un mistero.